Alta Sfera Cash & Carry, vastissimo assortimento all'ingrosso di prodotti per ristoranti, bar, pizzerie, hotelle e negozi alimentari, con una particolare attenzione al reparto dei freschi. Ci trovi a Corato, Molfetta, La Terza e dal 16 novembre anche a Manfredonia, strada statale 89, chilometro 170 presso Parco Industriale Sopim. Ci trovi aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 8.30 alle 12.30. Alta Sfera Cash & Carry, tutti i migliori prodotti all'ingrosso per la tua attività.